3 e 41 domani domani è il primo giorno del di scuola te dei una cosa sai dove vuole andare è sbagliato però vuole disegnare cos'è? vuole un disegno disegna? assolutamente no metto il disegno dei passaggi, non so c'è i passaggi sai fare? tu sai fare? ho sempre di altro a fare i passaggi e non mi so fare tu sai fare? vuoi fare un assagino? è seul dice seul dice seul perché devo disegnare io quando il problema è tu? vedi che devi andare a seul, mica io dice seul, li segnalo, vuoi andarci io lo sai fare provaci provaci tu no danny, io lo faccio al modo mio ma ti piace o non ti piace? tu cosa hai fatto il tutto il tempo? nenni mi hai messo la cella? io non sto vedendo niente nenni dove è? puoi disegnare anche l'occhio no danny mi senti neanche il blocco dopo? danny non sto facendo il palazzo capito? palazzo qui si danny non sto facendo mi dico non sto facendo niente non sto facendo niente non lo stai facendo mi sto mancando niente non lo stai facendo 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 niente perché è niente non lo stai facendo niente perché è niente non lo stai facendo niente non lo stai facendo niente perché è niente non lo stai facendo niente che disegna Tokyo? va a letto, quindi viene niente Tokyo e le nuvole qua è una strada di tutti gli alberi e a me e a me e a me tutti gli alberi qua è tutti gli alberi tutti gli alberi qua è vuoi scrivere tanto qualcosa capito? è una strada questa qua è non si capisce vedi è una strada da ventana sono le macchine è stata così e a me vedi che si è un ponte le macchine e passano tutti gli alberi questo è tutto l'alberi questo è tutto l'alberi qua è in inglese e a me un po' qua tutti i palazzi tutti i palazzi vedi a me che vedi a me sono solo palazzi vedi a me palazzi come New York vedi a me ed a me ho fatto tutte le trade i palazzi in niente ha adoro un uomo in 2003 e lì che c'è scrivi stato qualcosa scrivi stato qualcosa scrivi stato qualcosa una strada, tutti gli alberi qua, con tutti gli alberi qua scrivi sotto qualcosa scrivi sotto qualcosa qua scrive che bellissima Danny, non sta facendo una cosa io voglio Danny che che super tecnologica Danny per tecno logica città Danny si trova si trova si trova due trova devo andare a letto subito dieci minuti voglio andarci qui la perché domanda mamma non 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 che non 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 vedo, non vedo, non vedo, non vedo bene, tu vedi bene, no, non vedo bene, tu vedi bene, cos'è questo, così, ecco, vai, puoi disegnare Tokyo, dove andrà Manuela? No, guarda, questo è troppo difficile, questo non è difficile, no, no, quale, tutto questo, no, una sola, è più facile, no, è complicato, quale scegli? Questa, dove? Perché è torre? E' proprio questo, i palazzi, i palazzi, guarda questi, bene, capito, il monumento, Questo momento, non è importante, fait i palazzi di Tokyo, dove andrà Manuela, per favore, quando mi la sai, no, solo questo Nenni, vanno a soggiù Tu? Come fai a me? Poco? Come fai a me? Poco? Come fai a me? Super Palazzo Super Tecnologico Come? Poi? Non lo stai facendo proprio per niente Ecco qua Escrivete occhio Aspetta Escrivete occhio Escrivete occhio Un momento Escrivete almost Un momento Un momento Poi i vetri, tutti così, ok, wow, poi L'escrive con occhio, oggi o borsa è un problema, non so, non so, non so, non so, non so, non so e 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 ho detto che devi scrivere t'occhio scrivi t'occhio un attimo scrivi t'occhio e non aspetta questo è il modo più bello in ! Anna e piano adesso queste ecco qua scrivi t'occhio uh Grazie. Poi, scrivere Manuela, Manuela, posto di Manuela. Scrivere Manuela, posto di me dove Manuela andrà fra poco per un bel viaggio. Un bel viaggio avventuroso. E noi? A casa. No! Andremo? Ho detto andremo? No! No! Andremo a? No! Andremo tra tre anni assoluto. No, tra tre anni. Quest'anno. Andremo domani. Io quest'anno. Ecco, Danny. Piuttosto. Danny. Piuttosto? Dove? Noi. Dopo i diciotto anni di Danny, ma entro quest'anno. Dove? Andarci ora. Dove? Potremmo, potremmo andare. Questa volta. Per divertirci. Quest'anno. Ho scritto. Qui tende quest'anno. 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 Grazie a tutti.